Questo convegno è stato un modo di ampliare a un pubblico maggiore un discorso che riguarda la possibilità di divulgare questa problematica dei disturbi dell'alimentazione che è quanto mai attuale e fortemente sentita ed è un modo di promuovere anche quello che sarà un percorso formativo per chi eventualmente volesse approfondire queste tematiche. Infatti non è così semplice approcciare queste persone che hanno una difficoltà di questo genere. Non basta avere una formazione generica, è importante una formazione specifica. Perché è importante una formazione specifica? Perché il disturbo della condotta alimentare copre da un punto di vista sintomatico una serie di altre problematiche che sono all'interno della persona, all'interno delle relazioni familiari e anche dei gruppi sociali a cui le persone appartengono. E quindi capire in che modo si crea questa interrelazione tra quello che è la difficoltà psicologica o la difficoltà della persona con la manifestazione esteriore del problema è un punto fondamentale per poter evitare di entrare nella relazione di cura con queste persone in maniera non corretta e creare quindi poi ulteriori difficoltà. L'alimentazione, il cibo diventa un veicolo di una sofferenza che non viene espressa se non attraverso questo canale. E questo canale diventa compulsivo, cioè le persone si sentono forzate, questo problema occupa quasi tutto lo spazio mentale dell'individuo e tende a essere prevalente su qualunque altra cosa, diventa una manifestazione appunto compulsiva di un bisogno. Ma se questo, diciamo, si può affrontare all'interno di un percorso formativo in cui gli operatori cominciano a sviluppare la capacità di entrare in una relazione empatica e di attenzione all'individuo e alle sue relazioni più significativi, alle sue relazioni intime, se si può aiutare le persone che eventualmente dovessero affrontare le difficoltà di questo genere a poter, diciamo, comprendere che esiste una sofferenza, un dolore profondo che le persone non sanno affrontare diversamente è che una volta, diciamo così, conquistata una relazione di fiducia con chi deve aiutarle, possono pian pianino abbandonare questo tipo di problema per manifestare questa sofferenza e poi superarla. E quindi una cosa fondamentale, veramente la cosa principale a cui noi daremo attenzione prevalente nel nostro corso di formazione è quello di sintonizzarci non solo su quelle che sono le difficoltà, ma soprattutto le risorse, le risorse di queste persone che ci sono e che vengono coperte dal disturbo, le risorse delle loro famiglie che sicuramente hanno una sofferenza che è stata, diciamo così, veicolata attraverso questo meccanismo. E il cibo, noi sappiamo tutti, che non ha solo una valenza concreta, diciamo come dire, pratica, ma ha soprattutto per noi esseri umani una valenza simbolica, attraverso il cibo noi veicoliamo affetto, veicoliamo interesse, veicoliamo capacità di relazioni e quindi tutto questo attraverso un meccanismo che diventa un modo di connettere il fisico, la mente e le relazioni più importanti. Tutto questo noi lo affronteremo in questo corso e speriamo di poter dare a chi eventualmente volesse partecipare un'adeguata formazione.